Eccoci qua, nel pontone in partenza di oggi è proprio esattamente nel numero 4 del mio posto in partenza. Per chi non avesse seguito la gara è stata una gara tosta, molto tosta, molto bella, mi sono anche divertito molto. Purtroppo ahimè non sono riuscito a migliorare Londra e questo mi lascia un po' di amaro in bocca. Però devo dirvi ragazzi che ho fatto un grande viaggio e mi è piaciuto molto. Devo ringraziare con tutto il cuore il mio staff, la mia squadra, la federazione, tutte le persone che mi sono state vicino e specialmente voi che oggi, devo dire, in questi giorni mi avete dato un affetto, un amore e una spinta per andare in gara grandissima e veramente questo mi ha reso felice e contento di avere questa emozione. Da qui in poi adesso mi godrò un bicchiere di vino rosso, una bella pizza, visto che sono due mesi e mezzo che non toccavo niente di tutto ciò, quindi cheers o meglio evviva, grazie a tutti!